Compriamola perché è la nostra infanzia e può essere il nostro futuro. E' quella cosa che abbiamo amato tutti andando io dal quartier Libertà a piedi a Dalle Vittorie, partendo dal bar Anna dove si compravano i biglietti con la mano a papà. Mi sono comprato il cavalluccio dove mi tagliavano i capelli e adesso compriamoci la Bari perché è la nostra squadra, della nostra città.